Un libro sulla creatività pedagogica. Perché? Perché creatività ed educazione sono in qualche modo sinonimi. Creatività per me è proprio stare nel flusso, nel flusso come fanno i bambini quando giocano e forse creatività è anche quella capacità di riconoscere quello che è il proprio talento individuale per seguirlo e insomma un educatore creativo è un educatore che sa farlo lo su di sé e che accompagna gli altri a farlo e quindi li sostiene nel loro percorso.